Ragazzi siamo tornati, siamo tornati sul nostro campo, giochiamo in casa Gianfranco, Cesso e Dani li conoscete, i giocatori della Play2Give, i miei compagni di viaggio di quest'annata Preparatore atletico È vero, è vero, lui stesso, sei preparatore atletico, mister, mental coach, psicologo e giocatore Tutto Allora ragazzi oggi vi do importanza, vi valorizzo, perché oggi calcoleremo un overall, ma di chi calcoliamo l'overall? Oggi Nooo Saremo noi a giudicare quindi Sì, sì Oggi C'è il patta della terza categoria Guardatelo qua Ragazzi, giocatori della Play2Give, con l'aiuto di RagnarGk, dovrete calcolare il mio overall di Play2Give Ok, come giocatori di Play2Give 30 di tiro Onesti Onesti Dovrete dare i valori come, facciamolo vedere, qua c'è sempre lui, Ankara Messi Iniziamo ovviamente con la velocità, gli aiuta RagnarGk, perché sa bene com'è il format, anche se loro guardano i video, ma se ne prego Lui è il tecnico, però il tecnico è lui Abbiamo proprio un professionista Mi raccomando, non siate troppo cattivi, se no non vi passo più la palla Peccato che la palla arriva da lui Esatto E allora iniziamo Prima di continuare con il video, infatti, volevo parlarvi di una cosa FC Maglia Ragazzi, FC Maglia mi ha mandato queste stupende magliette Ad esempio questa del Giappone, quella dell'Argentina e altre, tante altre magliette Sono bellissime Guardate qua anche il logo come è fatto bene È ricamato bene Benissimo Anche dietro il logo del Giappone È stupenda ragazzi Non solo questa, ma anche questa qua dell'Argentina Anche questa ragazzi, spettacolare, è ricamata benissimo Col logo anche dell'Adidas, dell'Argentina, dell'Albi Celeste Vi ricordo ragazzi che potete trovarli sul sito FC Maglia E inoltre potete usare il mio sconto Pata che vi lascio sempre qua nel primo commento Ma ora continuiamo con il video Velocità o rapidità? Dai Pata La velocità è una cosa, rapidità è un'altra Cosa valutiamo? La velocità Allunghiamo Ma che allunghiamo? Devi toccare la mano Due Uno Via 2,87 Scarsino Scarsino Signori Buono sti scherzo Qui non è la Serie A Qua è la terza categoria L'ho visto correre molto più veloce Certi campionati se ha solo una qualità E quella deve essere Quindi o corri o corri Ok Due Uno Via 2,95 Guardate Guardate A peggiorare Ragazzi Va bene dovete valutarmi Ci vediamo Si vota per 84 84 Bravo Bravo Giusto Giusto Troppo No va benissimo È troppo È troppo 84 va bene raga Giusto Perché mi conosco Sanno che sono veloce Ragazzi voi non l'avete visto Ma è per la terza categoria È per la terza categoria Sono veloce Per la terza categoria Ci vogliono i coglioni Di giocare in terza categoria A chi d'ambiente ne potete Secondo esercizio Abbiamo il tiro Cesso È andato al congresso di Vienna A parlare al telefono Torna presto Ma abbiamo sostituto Il mister Come sostituto Sostituto cesso Si sono ubiti Ci porti il cesso C'è un cesso Allora dovete valutarmi sul tiro Decidete voi cosa farmi fare Siamo tre tiri da fuori E tre rigori Tre rigori Beh letto nel pensiero Bravo Ok tre rigori E tre tiri da fuori Ok andiamo Oddio Secondo tiro Questo è il tuo massimo E questo ribalta la situazione Forse Ora abbiamo tre rigori Questo è da noi Adesso ci sono i rigori Devo farli tutti Concentrato Una bella botta Ragazzi Secondo me è bisogno Di un aiuto Oh Eh ragazzi Come faccio a sbagliare così Concentrato che dobbiamo calcolare Terza categoria Si vede anche questo ragazzi La potenza del cesso Vediamo La potenza Non ci ho detto ragazzi Di qua è un po' a tanto eh Torcini Dai Chi sta partore Da un tanto Potevo fare molto meglio La potenza del cesso Mi ha aiutato ragazzi Allora se sei ripreso Poteva fare molto meglio Conoscendo padre Terzo tiro Terzo tiro Terzo tiro Velocità E giro Io dico 75 75 mi va bene Per la terza categoria 74 Potevo fare molto meglio Vogliamo essere Più forte della velocità O è più forte del tiro Chiuso 74 Va bene dai Chiuso 74 A me mi accontento Potevo fare molto di più Ma va bene Per la terza categoria Si migliorerà Che allenamento mi fai Per i passaggi Quello che farai È vedere la tua precisione Allontanandoti Almeno in 3 Barra 5 Passaggi Annotare le qualità Delle porte Il capo ZW Jackson Non finanzia Portire alla play to give ZW alla play to give Ci lascia con queste Delle porte a 11 Queste sono Il budget è questo Signori E dita così Non risponde È un passaggio Non un tiro Passaggio set Fate una critica Primo tiro Campo sintetico Con la zolletta Non l'avamo mai visto La zolletta sul campo sintetico Pressione di Jay Patatino 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 Passaggio si misura In velocità Precisione Se ci mettiamo da qua Che cagli di velocità gli devi dare C'è l'impatto E dovrei vedere Piccole distanze Ma la pressione Vai Jay vai Oh così Guarda E non fa girare la palla Mamma mia Forse era meglio Che ti tieni questa E basta Va bene Quanto mi danni Di passaggio 67 67 Ci sta 65 65 Ci sta 65 67 va bene Va bene Grazie mister 65 67 va bene Ora abbiamo il dribbling Ragazzi Il dribbling Io proporrei una cosa Ui contro ui tre Sì vabbè E tu che parti da là Com'è Però sono i tre Terza categoria Tu sei un ex Forza a dribblarci Non devi perdere Scusa Ex-Inter Ok Valutate bene Però Attenzione Si spada contro tutti Ex-Inter Che prova E' un'altra categoria E' un'altra categoria E' un cazzo Dai dai punta Eccolo Eccolo C'è quanto C'è quanto Attenzione 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 Che lasci Siamo le sfide a Rocket League Tipo Un Super Champions Contro 14 bronzo E' qua Vedremo che è più forte E' troppo agile Quindi dobbiamo andare a 90 90 quindi Eh beh Secondo me era finita Il dribbling Però per troppo tempo È troppo tempo Sei lì 3 contro 1 Vado a te Punta 1 Punta 2 Vola a 3 gol Secondo me raga 90 90 A me piace il dribbling E tu da se segnava Cosa prendeva 104 Ma no ma il gol Ma era dribbling Perché non hai dribbling Il portiere Scusa Ma beh Hai dribbling 85 Si scende Poi datemi altre informazioni Stai criticando Però vuoi dare il punto alto No ci parti da 90 Perché il dribbling Mi piace Poi giustamente Non ha dribblato il portiere Quindi si scende 85 Ma ma come sei contigo 85 85 85 di dribbling Me lo prendo volentieri Allora Io propongo una cosa Saltiamo La sfida difesa Che quella lì Devo fare delle specializzazioni Con te Perché lui ragazzi È un fenomeno da difesa Vorrei andare direttamente Al fisico Difesa mi prendo 50 Base di prendere 30 Eee La metà 50% Io gli darei 25 E sai perché Non corre E questa è molto brutta Dove dove Nel possesso che fai tu Arancio contro gialli contro verdi Sono problemi in play to keep In partita torno Mi piacerebbe che Nassi di più I problemi in play to keep Solo qui Nel backstage Dei canali di J-Pack 50 55 50 ma Io scriverò In commento Scriverò Se in partita Ha fatto quello che deve fare Cioè Ritornare A prenderà Va bene Se no Scaliamo a 25 Domenica c'è la partita Mi valuterai Poi scrivi Voglio vedere se Sono Gianfranco Il preparatore Gli do 60 Perché domenica è tornato Gli do 70 Ma devi volare Avanti indietro Avanti indietro Come sai fare Ok Andiamo al fisico Voglio vedere cosa mi riservano nel fisico Vedete lo spingio Tutti devi mettere Il passo Ok Alla spada Insieme saliamo Saliamo Non sulla schiena fa E con lui Devi fammi dare Piano piano Quanti metri sono? 100? Facciamo arrivare fino in fondo alla linea di porta Poi lascia giù E fa lo scatto fino all'altra Sveglia Sto morendo Andiamo 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 C'è il tempo Vai Vai Rispite No Va bene No senza affondare No Così muore No senza corre Vieni Vieni Fai da bocca Vieni Sembra Pinocchio Guarda le gambe A metà campo cambi e prendi Gianfranco In spada Sembra la tizia di Salentino A metà campo cambi e prendi Gianfranco In spada così Uno Due Tre Solo così Guarda che immaginato che guarda da fuori Sì Sì Io inizio a chiamare la macchina Guardate la fascia muscolare Guardate la fascia muscolare raga Fate penteggiare sulla schiena No no Va benissimo Continua 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 Guarda da fuori Vai giù Con le gambe Vai giù Non lo scressate ragazzi Non è facile Raga poi mi metto io sopra di te Va bene Ho già fatto di peggio Ottimo Guarda la fascia muscolare come sta crescendo Guarda la gara La vista l'occhio che riesce la fascia muscolare Oppure Oppure palesemente un'ernia No Sei pronto a scattare Sei pronto a scattare Pronto Giù pronto Guardate il timer Vai 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 È partito il timer Vai Vediamolo 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 Veramente sei nato stanco Vediamolo 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 Quanto mi date qua? Qua è stata 30 No no Tanta roba Tanta roba Va bene Io lo rifare Perché sono due volte Ragazzi Scrivete nei commenti Chi vorreste come prossimo Ospite anche della play to give Per calcolare l'overall play to give Perché possiamo calcolare Terza categoria Play to give Champions League Conference Serie A Tutto quello che volete Ragazzi Ditemi che overall Mi dareste come Terza categoria play to give Ci sono messa tutta I loro profili di instagram Vi rilascio qua in descrizione Ragnar lo conoscete Iscrivete ovunque Ve lo chiedo per favore Ragazzi Fateci arrivare a 50.000 Io ormai sto comprando Su ogni video Se guardate in alto Mi vedete Ormai siamo io e Ragnar Così a braccetto Dove io lo vado a prendere Alla metro Lo carico Io ragazzi Faccio metro Pullman Treni A piedi Comunque ragazzi Seguitela play to give Anche su portale Ragazzi Perché dobbiamo vincere La terza categoria È cresciuto un po' Sono cresciuto Da Jaypad è tutto Un saluto